Stai filmando? Sì. Facciamola la luce a fastidio? No, no. Facciamola la luce, Alminio. Stai filmando già? Eh, da un pezzo. Aspetta. Che dobbiamo. Aspetta. Viene. Il castretto. Ma è alta lì? No. Sicuro? Sì. Aspetta che ci mettiamo qualcuno che controlla. Controlla. Si è alta. vai vai anche te a dimensioni vai 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 anche te ma guarda te ne vai 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 anche te evite widzina passate vai 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 chi è che manca l'ultimo via andiamo brave così piano piano attraversiamo che pericoloso qui piano su su brave la mamma che ha portato tutto è tirata al passaggio brutto ciao ciao